E ora ve lo possiamo dire, siamo arrivati a... Barcellona! Brava! Brava! E tu non lo dici? Vabbè, allora siamo a Barcellona, siamo scesi naturalmente dalla Grimaldi Line che ci porterà poi da capo alla nostra dimora. Per il momento ci aspetta Barcellona con tutto quello che è Barcellona Inside. Ok, continuate a seguirci su Studio 100 by United. Grazie a tutti! 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 E' qui che si concentra la movida a Barcellona. Sentiamo già il clamore della gente e naturalmente la bellezza delle Miss non può passare in un servato. Continuate a seguirci. Grazie a tutti! 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 Questa clip la voglio poi, me la ritagli, la metto su Facebook, su YouTube. Allora, siamo saliti su un autobus che ci porta in una discoteca bellissima, si trova in riva al mare, nella località Villa Olimpica. La discoteca si chiama Carpe Diem, adesso vediamo se le ragazze sono contente. Ok? Siete pronti? Attenzione, eh? Allora ragazze, Miss Motos vi porta a ballare! Continuate a seguirci su Studio 100 by Night. I gotta find a new place where the kids are hip My buddies and me, you're getting real well known Yeah, the bad guys know us and they leave us alone Ah, ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati. We always take my car cause it's never been beat And we've never missed yet with the girls we meet None of the guys go steady cause it wouldn't be right To leave the best girls home, now it's Saturday night I get around, round, 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 I get around Get around, round, round, I get around Get around, round, round, I get around Get around, round, round, I get around I get around, round, 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 get around I get around, get around, round, 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 I get around Comincio la notte di Miss Motors Ci siamo calati su queste magiche sonorità di questo bellissimo posto dove come vedete ci sono pesci per foto per tutto Naturalmente ci grazie a tutti perché vogliamo configurare questo momento successivo qui a Barcellona con Miss Motors edizione 2010 e poi continuiamo a seguire qui sul secondo centro Allora Bruno Adalto che sicuramente Miss Motors sarà ancora successo per tutto il 2010 e il 2020 e il 2040 e il 2050 Dedichiamo un saluto, un brindisi a Miss Motors e naturalmente alle sue bellezze Sì sì perfetto, allora della discoteca Carpe Diem di Barcellona Un brindisi a tutte le ragazze per la prima nazionale E allora a noi un cin cin generale Procce? Evviva Miss Motors! E allora C'è? 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 Grazie a tutti. 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 Buonanotte. 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 Grazie.